Dalle elezioni amministrative del prossimo 8 e 9 giugno il Comune di Acqualagna uscirà con un nuovo sindaco. Da una parte c'è Laura Biagiotti, dall'altra Pierluigi Grassi che ha una esperienza nel Comune di Acqualagna sia come consigliere che come assessore. Grassi le chiedo in questa nuova avventura quali sono i punti di continuità rispetto a quella che è stata l'amministrazione uscente e quelli che poi sono invece gli aspetti migliorativi sui quali si punta. Per quanto riguarda la mia esperienza devo dire che essa nasce molto più lontano di quella dell'ultima esperienza amministrativa di Luca Lisi. Io sono stato assessore consigliere all'epoca del compiato Vittio Lucerini e in quel periodo Acqualagna ha vissuto il suo momento di grande espansione. Quindi sono l'unico delle due liste che ha la memoria storica ed è testimone di un periodo che va dagli anni 60 ad oggi di grande crescita a tutti i livelli del nostro Comune. Quindi io porto un'esperienza che va oltre l'ultima amministrazione. Per noi è un libro aperto dove le pagine che scriveremo le scriveremo sull'onda di un'esperienza già fatta che nasce 60 anni fa. Che Acqualagna vede dal 10 di giugno in poi? Allora un'Acqualagna che ha la memoria di quello che è stato nel passato ma che non rinuncia a migliorarsi e a valorizzare tutto quello che abbiamo. No, incominciando dalla Fiera del Tartufo che noi vogliamo portare a un livello internazionale in un momento di grande globalizzazione. E agganciato al Tartufo noi vogliamo trascinare anche tutta un'economia locale come ad esempio la Pietra, il distretto della Pietra che è stato sempre un cavallo di battaglia di Acqualagna. Quindi Tartufo volano di crescita dell'intera comunità, dell'intera economia locale. Come è composta la squadra a sostegno di Pierluigi Grassi? Allora la squadra è composta in maniera variegata ed equilibrata. Ci sono esperienze di persone come me che hanno vissuto, fatto 40 anni di attività in quel di Pesaro. Perché io ho lavorato 16 anni come autista soccorritore nella Croce Rossa di Pesaro. che mi ha arricchito moltissimo sul piano umano e altri 24 anni come funzionario amministrativo presso azienda ospedaliera Marche Nord. Poi ci sono altri colleghi come il mio collega Magnanelli, pensionato, ex direttore del primo servizio ragioneria del comune per 25 anni che ci porterà sicuramente un vantaggio di conoscenza dei meccanismi del bilancio e dei finanziamenti. Poi abbiamo un altro collega che è stato nel mondo bancario, Alessandro Bugatti. Poi abbiamo un altro collega che è stato funzionario importante della motorizzazione civile qui a Pesaro. E il resto sono giovani a cui noi vogliamo trasmettere la nostra esperienza. Perché per impegnarsi per il proprio comune non c'è un'età. E la funzione di ognuno di noi è quella che è dettata anche dall'esperienza. Quindi noi vogliamo trasmettere l'esperienza ai giovani e ai quali consegnare il futuro del Paese.